Brillano i colori, i tessuti dei vestiti, i volti dei santi sembrano riprendere vita. Si illuminano di nuova luce gli affreschi trecenteschi di altichieri da Zevio all'oratorio di San Giorgio. Si è conclusa l'opera cosiddetta di restauro percettivo della Cappella, gioiello del Trecento che si affaccia sul sagrato della Basilica del Santo. La veneranda Arca di Sant'Antonio, con il sostegno della Fondazione Cariparo, ha promosso l'installazione di un sistema illuminotecnico innovativo grazie al quale i visitatori potranno sperimentare una nuova percezione degli affreschi trecenteschi di altichieri. Questo è un primo passo concreto per la valorizzazione di Padova, di Urspicta e della sua immagine nel mondo. Infatti noi abbiamo già cantierato adesso l'illuminazione degli altri due siti Urspicta presenti nella Basilica, la Cappella di San Giacomo, sempre di Altichiero, e la Cappella di Giusto de Menabuoi. Noi riteniamo fondamentale questo collegamento con l'amministrazione di Padova e con i siti Urspicta per valorizzarci reciprocamente e far sì che Padova possa riprendersi anche da un punto di vista economico grazie al turismo e alle sue bellezze. Il ciclo di affreschi dell'Oratorio di San Giorgio è una preziosa testimonianza dell'impatto della pittura di Giotto a Padova nel secolo dei Carraresi e la precedente illuminazione invece dava poco risalto alla percezione di grandiosità degli affreschi che insieme a quelli del maestro Giotto della Cappella degli Scrovegni potrebbero diventare patrimonio UNESCO con la candidatura di Padova, Urspicta. La sua centralità all'interno del percorso di Urspicta è sottolineata proprio dall'alta qualità di questi affreschi che ora siamo in grado di percepire con pienezza.